Per informare i clienti dello stupefacente in vendita in quel momento, nei messaggi WhatsApp utilizzavano le emoticon con foglie di marijuana o sticker con immagini di vassoi contenenti strisce di cocaina. Sono stati sei gli arresti da parte dei carabinieri di Isola Caporizzuto per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione denominata Libertà Bis segue quella del 19 giugno scorso, che ha portato all'arresto di cinque persone, due delle quali sono indagate in questa seconda tranche. Le indagini sono state avviate a seguito dell'esame dei telefonini di due degli attuali indagati, a seguito di precedenti arresti per spaccio. Le droghe indicate anche con le parole pizze o minuti spesso venivano acquistate a Crotone per poi essere smerciate a Isola Caporizzuto.